ah che che finalmente si è fatta notte nel mondo che ha sempre giorno e niente io approfitto per se c'era un pisolino ma cos'è sta cosa qua no è morto minecraft perché deve morire minecraft c'è il dream man mi sa che ha fatto crashare lui aspettate un attimo sono riuscito a rientrare nel nel mondo e raga è giorno c'è che c'è c'è era è giorno c'è in realtà non lo so se è giorno però a me sembra giorno cioè a me sembra e mi pare giorno cioè se non è giorno allora me ne vado e raga qua c'era il dream man ora non c'è più che è successo che io il dream man ce l'ho contenuto nel laboratorio perché c'è un dream man libero c'è dream 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 che è successo dalle speed run sei entrato nella minecraft scp No scherzo non c'entra niente dream ma è si chiama dream man sto qua che tradotto in italiano significa l'uomo dei sogni e niente è un uomo che da che perseguitano i sogni infatti io stavo dormendo mi è crashato minecraft ho dovuto riavviare il mondo niente allora ragazzi la cella di oggi volete sapere dov'è è proprio qui è qua su no è come dire è proprio qui ok noi scendiamo qua e guardate qua c'è un cratere della madonna e voi direte ma gesù cristo che ca qua sotto c'è l'scp di oggi e io raga credo che che dato che c'è un cratere della madonna perché raga veramente è un è un è o non è un cratere della madonna mi farebbe pensare che qua ci si qualcosa che può portare alla fine del nostro mondo e non so perché ho fatto questa questo come dire questo pensiero però c'è un cratere che va manco gesù cristo cioè mi pare ovvio che si un scp che può portare alla fine del mondo allora gli scp che portano alla fine del mondo non ne conosco molti cioè in realtà ne conosco abbastanza fuori da quelli che abbiamo fatto allora c'è il 2399 2399 che però dovrebbe trovarsi su mart quindi non penso sì il 2399 poi c'è il 23 il 2317 che è tipo un in realtà tipo vabbè c'è tutta una cosa da spiegare col 231 che è tipo complicata però raga c'è secondo me qua c'è qualcosa vabbè raga direi di non perderci in chiacchiere e di buttarci siete pronti? 3 2 1 cavabongola ok siamo ho gridato un casino e niente allora qua c'è del diamante che io lo prenderei e non so perché c'è del diamante poi qua c'è tutto un cratere e raga che ci crediate o no questa cella e niente ora se è una cosa che fa finire il mondo addio minecraft scp di nuovo va beh che l'ultima volta l'ho fatta chiudere per un problema di lag però vabbè intanto i diamanti li tengo e niente raga qua ci buttiamo prendiamo un po' di danno risaliamo e qua c'è la nostra cella di oggi e raga se è qualcosa che causerà la nostra fine del mondo addio è stato un onore conoscervi ragazzi adesso direi di aprire la porta e di vedere cosa farà finire il mondo siete pronti? 3 2 1 ma che ca e io tutto epico per dire no che ca è sta cosa no me ne vado e invece no scp 372 scuola che cazzo cos'è il 372 aspetta no se è quello che penso mi dissocio aspetta 372 e cos'era cos'è il 372 ah ho capito ho capito qual era il 372 ma ma il 372 noi l'avevamo anche già visto il 372 perché c'è il 372 cioè io tutto epico oh è una cosa che finisce il mondo invece no 372 che ragazzi il 372 per chi non lo conoscesse ma penso lo conoscete tutti l'avevamo anche fatto il 372 molto tempo fa è una cavalletta che puoi vedere solo ed esclusivamente al bordo della visuale corre a una velocità di tipo boh è velocissimo ragazzi questo scp è talmente veloce che si può vedere solo al bordo della visuale nella visuale periferica e perché c'è un cratere mi chiederei cioè ora stavo pensando alla fine del mondo e in realtà è una cagata di scp 372 che è un coso che puoi vedere solo alla visuale periferica vabbè raga nulla di che abbiamo trovato un altro scp allora io direi di entrare e al volo siamo nella sua cella di contenimento lui è qui da queste qualche parte si dovrebbe poter vedere solo al bordo della visuale ora non lo vediamo noi ma in realtà lui c'è solamente che tipo come dire si crede invisibile e è proprio qui al bordo non lo sapremmo mai ma comunque sia è qui da qualche parte ora aspettiamo e se trovo qualcosa vi avviso ok raga come state tutto bene ho vi cos'era ma l'ho visto per 3 secondi cos'è è veloce ma è grosso quanto grosso è raga questo è scp 372 scusa è grosso non per dire ma quanto è ma raga è un ragno gigante ma questa ma scusa se lo abbiamo visto ma poi è anche tipo super veloce buongiorno 372 puoi scendere per favore ehi tizio puoi scendere please ti devo sperimentare oh vieni qua dai che la posso colpire devo solo prendermi l'altro come sto allora uno due tre vieni qua vieni qua vieni qua bastiano vieni qua bastiano vieni ok allora devo fare un po' di sprint come la tartaruga no pasquale pasquale questa è tutta colpa tua ma ma ehi ma non fa ma si baga tipo coi muri è morto e mo vabbè raga raga ma che cagata cioè io che credevo che era la epicità più epica allora se sto video fa poche visualizzazioni già me la prendo con questo video che è una cagata in mare questo qua questo qua raga è l'scp più cringe vabbè l'avevo già visto però c'è perché perché il 372 è inutile cioè raga il 372 che è un coso che puoi vedere solo al bordo della visuale che è uno degli scp più inutili la fondazione è spawnato in un cratere che potevano cioè in questo cratere al paese mio poteva spawnare un scp che poteva distruggere il mondo cioè potevate non lo so metterci che ne so boh il 5000 ecco 5000 ci andava benissimo cioè il 5000 che fa causare vabbè il 5000 avevamo anche già visto cosa dico ah faccio i discorsi del K che cosa bella potevano metterci non lo so il 23 231 1 no 372 ma vabbè e niente ragazzi io comunque ragazzi direi che per questo video è tutto se tanti mi piace lo so ragazzi è stato l'scp più cagata di questo mondo cioè cagata cagata che cosa cagata vabbè lo so siete sconvolti pure voi e niente ragazzi da me elettro 16 e e tutto cioè questo era il video questo era l'scp ciao c'è che vabbè lo so che non farà un zero visualizzazione in sto video non vabbè ciao ciao